Eccoci qua, con un nuovo acquisto, non sono le Lore Surprise, no, questa volta sono Shimmer e Shine. Ah, questa è la scatola di Shimmer e Shine, tappeto volante magico. Questo è il nuovo cartone che viene trasmesso sul cartonito. Sono due geniette, eccole qua, le geniette dei desideri. Pronta Shimmer? Pronta Shine! Le tue geniette privilegine volano! Il tappeto vola, cammina. Sì, vola! Come si muove il tappeto loro parlano. Stiamo volando basse, quando in basso possiamo andare? Questo è Shimmer e questo è Shine. Oh, non sono me! Si vola! L'ora possono esaudire tre desideri al giorno. Allora, questa qui è la Shimmer che esce in confezione con il tappeto. Io però avevo anche quella lì singola e l'ho messa a lei sul tappetino. Questa invece fa parte di lei, nel tappeto esce questa qui. Io però ci ho messo quella lì che ho comprato singolarmente. Che in effetti sono uguali, cambia solo il colore dei vestiti. Con i poteri magici, Shimmer e Shine! Buon Zanami! Ci vediamo la prossima volta, sì! Pronta Shimmer? Pronta Shine! Le tue geniette privilegine volano! Dicono tante frasi. Cantano pure la canzone. Dicono tante frasi. C'è la canzone. Aspetta, in realtà. Quello è pure il singolo del pavimento, è un po' fastidio a te. Ci porti giù! Vai! E queste sono Shimmer e Shine. Bellissime, vero? un saluto dalle due geniette ciao ciao alla prossima